Signori Bentornati sul canale del Grinone Ragazzi scusate la faccia ma sono appena tornato Oggi è domenica sera Sono appena tornato da un tre giorni di lavoro fuori Sveglia le 5 e finì di lavorare le 8-9 di sera Sono un po' stanco Per cui se mi vedete un po' così il motivo è questo Domenica sera faccio sto video Se ce la faccio lo butto su lunedì Altrimenti lo avrete martedì Prima di cominciare un po' di cosette ragazzi Prima roba arriverà un video di Fortnite Stranamente l'altro giorno ho fatto un sondaggio su Instagram E praticamente il 70% ho detto che vorrebbe vedere un video di Fortnite Fra l'altro mi è arrivata anche la richiesta proprio Da quella di Fortnite di portarlo Per cui top Anche perché finora ci ho giocato pochino Ci sto giocando un po' di più adesso con Fabio Vabbè cambiamo discorso Vi lascio a fine video e anche sotto nei commenti Il link di un canale molto interessante Sapete che io quando trovo qualcosa che vale la pena Secondo me lo condivido tranquillamente Perché non è che ho paura e devo tenermi miei iscritti E su YouTube non si può far conoscere gli altri dei bei canali L'ho fatto con Poselli a suo tempo Vi ho fatto conoscere a tanti di voi Masseo A me se trovo qualcosa che mi piace Mi fa piacerissimo Usate il gioco di parole stupido Ma sono veramente fuso condividerlo anche con voi Per cui vi segnalo questo canale italiano Che si chiama Food Street Se non lo conoscete già Che parla di mercato principalmente Vi dà un sacco di bei consigli Io video sul mercato ne faccio pochi Perché ho poco tempo da starci dietro E quindi quando ho la possibilità lo faccio Lui ha un canale dedicato al mercato Segue gli stessi trader stranieri Come Run The Food Market Come Food Economist eccetera Che seguo anch'io Se vi interessa far compravendita Andate a seguirlo Ripeto ragazzi Per me merita Non me l'ha chiesto lui di far sì Non è una marchetta Stavo anche perché il primo che lo scrive Veramente mi sputo sulla mano E poi gli do una sberla Per non dire cose peggiori Anzi se vi iscrivete al suo canale Mi fate un bel piacere Andate a commentargli un bel suo video E gli iscrivete Qualità dal grinone ragazzi Mi raccomando Dunque signori A parte vabbè gli upgrade Io ero via quando sono usciti Quelli della BPL E ho bestemmiato duro Quando ho visto cose insulse Come Martial ragazzi Perché ci ho perso Con Martial Sono riuscito a venderne Un po' prima Ogni tanto Ero là che stavo lavorando Andavo dentro col cellulare E riuscivo a listarne qualcuno Quindi prima dell'uscita Degli upgrade della BPL Sono riuscito a venderne Giusto un paio A 7000 Tanti invece sono Ci ho perso Un 300-400 credit Li avevo presi A 5200 Li ho rivenduti A meno In un momento Che veramente Avevo la possibilità Di connessione Con Alexandro Mi è andata un po' meglio Li avevo presi tutti Sotto i 64 Ragazzi Li ho rivenduti Tutti quanti Prima dell'uscita Degli app Della serie A Lui non è stato Upgradato Io li ho rivenduti Da 64 Li ho rivenduti A 74 Alcuni li ho rivenduti A 68 Ci ho comunque Guadagnato qualcosa Queste due carte qua Erano dei doppioni Li abbiamo liberati Di queste cose Poi va bene Parleremo meglio Mercoledì sera Quando sono in live Su Evriai Mi raccomando Venite dalle 7 Le 8 E comunque Con gli Alexandro Per fortuna Non ci ho rimesso Ragazzi Adesso Con tutti questi app A parte che il mercato È impazzito Signori Perché Con quelli della BPL È crashato Sono usciti Quelli della serie A Che non sono Chissà che robe Di speciali Sono uscito A prendermi Un paio Di giocatori Adesso sto rivendendo Sti De Vrij Che avevo Versalico Vedremo Sono riuscito A prendermi Un po' di Mertens Sotto I 20.000 Non tantissimi Qua ad esempio Come già vedete C'è un bel po' Di irlandesi Che è il tema Di questo video qua Con sti Lanzini Qua ci ho perso Ma vabbè Ho preso un po' di Mertens Ho preso un Dybala Sui 125 Qua Ho Fernandinho Lo devo rivendere Io li ho presi a 2.40 Devo rivenderli almeno A 2.70 2.80 Sperando che torni su Ma il mercato È un po' impazzito Quindi Più che star lì A smenarsi il cervello Con gli upgrade Più che star lì A guardare Ma escono questi Non escono niente Perché comunque La lista ufficiale Di come escono La schedulazione Non l'ha messa fuori Da un sacco di parti Dicono che dovrebbe uscire Stasera Che è lunedì La Ligan Ma Non è sicuro Io sono andato Sugli irlandesi Perché Perché prima Degli upgrade Quindi subito dopo L'anno lunare Se ci avete fatto caso Gli irlandesi Sono saliti Di un botto Cioè praticamente Gli oro rari Stavano a 1.700 1.800 E adesso Con questo bel discorso Degli upgrade Sono scesi Di nuovo Però non so Quanto durerà Sinceramente Perché quelli più interessanti Sono quelli della BPL E quindi Ad esempio Ragazzi Questi qua Vedete Sniperati Questi a 1.200 1.100 1.300 Un altro long Long Adesso Stasera Stava sui 1.400 C'erano un botto Quindi ho detto Che sono impostato 1.200 Questo addirittura Ho buttato via 1.500 crediti Vabbè Ragazzi Dovrebbero crescere L'anno scorso L'anno scorso Sono saliti Intorno ai 4k Questo sono riuscito A prenderlo Per 9.50 Ma poi mi sono messo A fare mass bidding Filtrino Molto semplice Vabbè Ve lo faccio vedere Subito Che è una cavolata Ragazzi Qua è ancora Quello di Alexandro Prima Stavo cercando Di prendere qualcuno A 60k Qualità oro Nazione Andiamo qua Mettiamo un bel Irlanda Ragazzi Prezzo 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 Massimo Io prima Mi sono messo 1.100 Proprio perché ho detto Offro il massimo 1.200 E poi Basta Vi andate A cercare I giocatori Prendete qua Tipo il McCarthy Vai così Offerta 1.200 Perché è un 80 Di overone Che sia non raro Questo Shane Long Lo mettiamo così Un altro McCarthy Sono andato avanti così Ho fatto offerte Che probabilmente Stasera Mi rimetterò a farlo Quando siamo un po' Più sul tardi Offerte a manetta Ho visto che McGd Va via A poco Ragazzi Perché è un 75 Quindi non sono stato La a offrire Più di tanto Su di lui Ne ho offerte Boh Non lo so Mi sono speso 80k Qualcosa Sono andato via A manetta Sul mercato Vedete qua Li ho presi tutti 1.200 2.200 1.200 1.300 Vabbè questo 1.300 1.200 1.200 1.200 Signori 1.200 Ne ho presi già Una trentina Così Proprio facendo Offerte a manetta E lasciandoli là Non sono più andato a riguardarli Ne ho offerti Tantissimi Adesso ho pulito Ovviamente Il mercato E di questo long Qua Mi hanno già andato Sopra 1.300 Ma io non vado A offrire Sopra I 1.200 Ragazzi Mi sono impostato Io 1.200 Non perché Sia il prezzo Giusto Signori perché li trovate anche a meno Ma non ho voglia di stare lì a sniperare Perché tanto se salgono a 3.000 Ci guadagno comunque Per cui non ho voglia di stare là A risparmiare 300 crediti al giocatore Per poi fare 200 crediti 150 crediti in più E averci perso però 10 volte il tempo Questo vi consiglio di farlo adesso Vi consiglio di farlo in questi giorni Monitorate magari su Furbin L'andamento dei prezzi degli irlandesi Anche gli argentoni ragazzi Però preferisco puntare sugli oro Perché come abbiamo visto già quest'anno Con l'anno lunare, con gli upgrade Ha cambiato tutto quanto Non vorrei che cambiassero di nuovo Anche per quanto riguarda San Patrizio Che ricordo San Patrizio se non sbaglio Il 17 marzo L'evento potrebbe essere dal 16 che è un venerdì Aspetta che guardo il calendario Il 16 è un venerdì Quindi potrebbero fare venerdì, sabato, domenica E lunedì L'anno scorso fecero le SBC Con in premio La possibilità di ricevere Da tipo 30 a 100k C'erano le SBC Con un minimo di overhaul Per avere i giocatori di San Patrizio Le SBC che richiedevano Un altro minimo di giocatori di San Patrizio Quindi ovviamente la gente Andava a comprarsi gli oro Andava a comprarsi gli argentoni Si faceva le sfide Prendeva le carte di San Patrizio E le riutilizzava Per avere i crediti Quindi ragazzi I consigli sono due O ne prendete una botta E li rivendete Nel momento di hype Quindi prima Della promozione di San Patrizio Quindi intorno a metà marzo 14-15 marzo Magari le carte sono rialzate Io le ho prese a 1.200 Si sono rialzate a 3.000 3.500 BAM Li vendiamo subito È quello che probabilmente farò io Oppure aspettate l'uscita dell'evento Se si alzano ancora di più Avete fatto una valanga di crediti Se non si alzano Perché magari Non fanno neanche l'evento La prendiamo tutti In quel posto lì Quindi magari la soluzione migliore Potrebbe essere Bene Ne avete presi un tot Prima nel momento di hype Li rivendete In modo da O dire ho speso 100k Li ne rivendo un certo tot Per farmi di nuovo 100k Sono in patta Quelli che mi restano Aspetto di vedere l'evento E magari se ho fortuna Ci guadagno un botto Se ho sfiga Li rilisterò al minimo E comunque ancora ancora Qualcosa ci guadagno Questa potrebbe essere La soluzione migliore Io adesso Bah Proverò a investire Un 100-200k Su sta roba di San Patrizio Sperando di far bene Andrò a guardarmi anche Gli argento quali sono E niente ragazzi È tutto qua Secondo me Questo qua è il momento migliore Perché se poi Finiti Gli upgrade Fanno come con l'anno lunare Si rialzano di nuovo Una botta Non li prendete più Per farci i decreti Quindi Questi 4-5 giorni Che ci saranno Gli app Dei campionati Ragazzi Secondo me Più di star lì A sperare Di comprare Uno che venga Upgradato Visto come sta facendo La EA Le cose Conviene buttarsi Sugli irlandesi Questo è quanto Video molto breve Ragazzi Adesso mi metto a editare Subito Se ce la faccio Ve lo porto Se bene bene Se no Ve lo porto martedì Come sempre Signori Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Mi ricordo i vari link Che vi ho detto Per tutto l'arco del video Noi ci vediamo Mercoledì sera Mentre qua Sparisce sempre la schermata In live Sui canali di Every Eye Twitch e Youtube Dalle 7 alle 8 Che parliamo praticamente Sempre di mercato Ormai Visto che gli eventi grossi Sono passati E niente Come sempre Signori Qualità Ciao Ciao Ciao